Allora amici, eccoci, abbiamo preso delle cose, delle cose perché abbiamo questa bellissima stampa del matrimonio che ci hanno regalato i fotografi che era già incluso in tutto il pacchetto che avevamo fatto, che vi faccio vedere appena apriamo la cornice è una 60x90, però la 60x90 la cornice non l'abbiamo trovata in commercio, tranne che su Amazon, ma per non stare ad aspettare i tempi di consegna e tutto quanto abbiamo preso una 70%, quindi ci rimarrà un piccolo bordino bianco sia in lunghezza che in larghezza, quindi non è un problema è una di quelle cornici che sono in plexiglass, i vetri qui davanti, e poi sono senza cornice intorno, sono quelli effetto giorno, mi sembra che si chiamino e quindi ci metteremo la stampa, poi dovremo vedere dove metterla, comunque è molto molto grande e poi abbiamo preso questa composizione di quadri, questa qui, che abbiamo pagato 50 euro, 49 qualcosa sono di lunghezza, tutta la composizione è 145, poi dipende come si vogliono distanziare i quadri l'uno dall'altro e è il paesaggio di Parigi con la Torre Eiffel, quindi molto bella, Parigi ci piace tanto, intanto facciamo vedere tutto quanto e questo qui, mentre Woody è lì che si sta mangiando il suo osso, lo metteremo qua, quindi su questa parete qua dovrebbe essere la spalliera a due metri, quindi diciamo che anche qui rimarrà uno spazio in entrambi i lati però va bene, l'importante è riempire questo vuoto, e una cosa di questi quadri è che hanno il biadesivo e non hanno gli angolini per appenderli, però io l'ho presa da parte, è abbastanza spesso il lato ci sono delle vittine piccoli, quindi avviterò quei triangolini per appenderli poi, gli avevi fatto vedere l'album? no ok poi un'altra cosa che ci hanno dato sempre i fotografi perché noi siamo andati sia all'inaugurazione del loro nuovo studio che hanno fatto però siamo andati per questo, che sarebbe l'album del matrimonio guardate che bello c'è scritto ovviamente Edoardo Elessi, è 16 ottobre 2021 è di pelle, ecopelle rosa e poi si apre e dentro, oltre ai guanti c'è l'altra targhetta e questo in sé per sé è l'album quindi vi faccio vedere giusto qualche cosa ad esempio qui all'inizio c'è una scritta e le nostre due fadi e l'album è fatto, vi faccio vedere delle foto più di quelle più grandi che ci hanno messo e sono quelle a pagina intera ad esempio questa qui aspettate un attimo ad esempio questa foto qua, guardate che bella che siamo noi dove ci siamo sposati dove c'è anche il castello forse qualcuno di voi lo riconoscerà ed è tipo a schermo e a pagine intere e ve ne faccio vedere altre visto che le foto voi non le avete viste ad esempio c'è questa qui queste qui di dove eravamo al ristorante e tipo ci sono queste al taglio della torta comunque molto 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 belle altre che vi posso far vedere tipo l'alli col vestito allora sarebbe bello da farvelo vedere tutti quindi diteci se volete un video magari che vi facciamo vedere l'album comunque guardate bello io e lei bene allora abbiamo fatto uno spostamento cioè abbiamo messo questo qua e la cartina lì allora questo qua vedete che intorno allora sotto abbiamo tolto il foglio bianco perché era pieno di pieghe non era bello abbiamo messo questo qui che è bellissimo perché poi c'è il faretto so perché lo illumina quindi è magnifico con sotto la mensola che adesso vedremo cosa metterci ora vedete tutto quei lati intorno color legno sughero ma abbiamo un'idea di farlo brillantinato oro quindi metteremo uno strato di colla spennellate poi ci metteremo i brillantini così risalta ancora di più comunque quella è la nostra foto preferita infatti abbiamo scelto quella lì come abbiamo detto qui ho messo un altro chiodo con la cartina quindi dei posti che abbiamo visitato e che visiteremo sono quelle che si grattano e domani faremo attaccherò i quad quelli di Parigi di là nella camera e avevo già cominciato a prendere le misure ma ora sulle 12.30 dobbiamo andare a pranzo quindi continueremo domani buongiorno allora c'è mio marito a casa perché è di pomeriggio che oggi mi ha fatto un po' di giri in realtà cioè dovevamo andare a fare la camionata solita mattutina però mi ha fatto un po' di cose stamattina vabbè abbiamo portato Voodle Arecani che ora è lì che si sta prendendo il sole con la sagoma lì poi siamo andati al fornaio a prendere il gnocchino perché il mattedì il venerdì è gnocco e poi siamo andati alle solunghe a prendere due robe cioè in realtà dovevamo prendere due cose veramente in croce ma alla fine mi ha preso la sborda perché devo fare un dolcetto diciamo fit è una ricettina che ho visto con le patate la pasta insomma e siamo andati poi dai china che abbiamo preso questo che lo volevo da un po' di tempo perché ora stiamo in inverno le cose ci mettono un po' ad asciugarsi tutto quanto quindi faccio praticamente una lavatrice ci metto quasi una settimana ad asciugarsi per cui la roba si accumula e si accumula e si accumula e quindi finalmente abbiamo un altro standino così anche stasera posso fare un altro così di roba la roba si asciuga poi abbiamo preso questa cosa qua che sta mettere che praticamente è il sottoporta insomma quello lì parasplifferi parasplifferi che prima non c'era quello lì ma è tutto sporco di insomma l'ha sporcato voody quindi vedrò se si riesce a pulire quindi adesso vediamo se quali si riuscirà a pulire che cosa e quindi abbiamo preso quello c'è un cagnolino che su amazon costava tipo intorno i 10 euro qui l'abbiamo pagato 6 euro qualcosa che è che è c'è cagnolino c'è cagnolino si è cagnolino c'è cagnolino va bene va bene e niente quindi poi storia curiosa affascinante praticamente allora quanto è alto sto stendino 2 metri via 2 metri 2 metri sei di fianco a te via metrostruttura di piano 2 metri 2 metri sarà 2 metri comunque sono 2 metri bene lo compriamo felice arriva mia macchina per caricare la roba non ci sta abbiamo provato 1800 posizioni non ci sta bene lui cosa mi fa l'hai voluto vai a piedi vero? vabbè è un negoziato che qui dice no sì quindi ma del tanto che l'hai voluto tu vai a piedi quindi io mi sono fatta tutto il giro a piedi che sono tipo 400 metri saranno boh 10 minuti a piedi forse più o meno sì 5 minuti 400 metri oh saranno 5 minuti a piedi 10 esagerato 5 minuti a piedi lo saranno come minimo però con quel coso erano di più di 5 minuti è normale quindi mi sono fatto tutto il giro dal negozio cinese a casa con questo coso che tutti quanti guardavano come se avesse un alieno in braccio e quindi a parte ho un male alle braccia quindi io me lo sono fatta a piedi e io invece sono venuto in macchina giustamente oh mamma che è? vedi la roba che ci sono ah ho detto bene è rotto allora allora perché questo qua costato 27 qualcosa invece 29 se no c'era quell'altro che già c'ho che costava 13 però almeno questo qua diciamo che al massimo qua ci metti le maglie l'intimo è tutto e là magari le lenzuola asciugamani insomma due asciugamani fanno qua specialmente l'inverno eh? c'era così o con i cosi blu proprio ma ti devi divertire a montarlo bene quindi i quadri non li hai fatti vedere finiti? no poi vi faccio vedere come sono venuti i quadri che ieri ha montato parte del letto che dobbiamo fare scusate sbam eccolo qua è così è bellissimo giusto che è una meraviglia a noi ci piace tantissimo lo so quei due peluche li fanno un po' ridere però insomma è quello che un po' ci rappresenta sono i nostri i nostri cartoni preferiti quindi per ora stanno lì poi chissà un futuro dove li possiamo mettere però vabbè stanno lì sarebbero bene senza però beh e niente quindi questo è il risultato è troppo bello se ci sta troppo bene a noi ci piace tantissimo cioè almeno da un po' di insomma c'è qualche cosa poi quei tre quadretti lì andranno poi da un'altra parte vediamo dove mettere perché magari li metteremo un'altra foto del matrimonio e quelli lì vediamo dove mettere perché sostanzialmente non ci stanno benissimo alla fine sono anche un po' storti però erano i primi quadri che abbiamo preso e quindi li abbiamo subito voluti mettere tutto roba di lavoro e niente quindi adesso la mia dolce metà mi monta lo stendino e poi dai china comunque abbiamo preso questi i profumatori che l'altra volta erano cioè allora c'era scritto offerta 99 centesimi però era tipo scaduta l'offerta quindi ho chiesto col ragazzo se costavano 99 centesimi oppure no perché comunque il taglientino ancora c'era fuori vabbè scusate l'interruzione comunque che vi stavo a dire non vi ricordo no vudi non è nessuno sempre così ogni volta che suonano e quindi niente altra volta avevo chiesto se erano ancora in offerta ma il ragazzo mi ha detto di no nonostante ci fosse il taglientino fuori quindi noi non le abbiamo comprate invece oggi era ancora il taglientino fuori ma la scadenza che c'era sull'offerta era ancora quella dell'altra volta vabbè e oggi sono passati comunque a 99 centesimi andate a capire voi cosa fanno comunque lui cos'è che ha preso rosa rosa non metterò questi due tizi ma mettiamo la nostra foto del matrimonio sempre però è bellissimo perché c'ha i cuoricini che si insomma che galleggiano così questo qua amore 1,90 il quadrettino 1,90 1,99 insomma così poi adesso dovremo fare le stampe da foto sì perché dobbiamo appunto stampare un po' di foto sia per noi sia per i miei genitori sia forse anche per i suoi e per per i parenti vari quindi adesso vediamo come fare con l'applicazione se per stamparle poi vi faccio vedere sta vincendo rossendino o stai vincendo tu? no perché ho visto adesso che ci sono due volte poi fermi e due volte senza ah sì e quelli questi sono? quale? quella roba lì? per fermare le crone per fermare le crone amore basta un po' nooo sbilenchino eh ho fatto tutto da me cioè magari le ruote andavano in un verso forse cioè magari ci sono ci sono quelli più lunghi e quelli più corti ma non c'è cioè guardate se metto le istruzioni forse molti vociano che dici? e ti pare che i due lunghi le ho messi lì? aveva il 50% di possibilità ma non lei guardate ecco perché forse non entrano ma ti voglio vedere farli uscire bene ci vediamo una volta che ha finito di ritirare con questo indino allora è pomeriggio sono tipo le 5 e sto iniziando a preparare una ricettina che ho visto su tiktok e quindi la voglio provare a fare non so perché ho fatto il giro del divano ma va bene comunque è da un po' che non registriamo che non ci siamo fatti vedere o perlomeno io cioè che non ho fatto il libro comunque sembra che lui lavora e tutto però sono stati cioè sono stati un po' giorni un pochettino giù non sono stati grandissimi novità e quindi insomma per non annoiarvi sempre e comunque sono fatto uno shampoo perché già ce n'era bisogno e adesso ho messo su o ve la faccio vedere ho messo su patate e carote bollite le carote bollite le ve le ha richieste il marito invece le patate servono per la ricetta allora la facciamo insieme come ogni ricetta che si rispetti le facciamo insieme così vediamo che cosa combino e poi in realtà volevo fare due ricette ma vediamo se riesco a fare tutte e due magari adesso che ho questo momento di di tranquillità lo faccio l'altro sarebbe un dolcetto ma un dolcetto fit è un dolcetto che era una grandissime calorie quindi si può mangiare quindi è un dolcetto lo chiamo tortino fit ma io ho messo i pavesini perché ho i pavesini da penso non so forse un anno o un anno e un qualche mese perché a noi non ci piacciono però ci sono arrivati penso con una dei bustabox e ne a me ne a mio marito i pavesini ci piacciono e quindi sono rimasti lì sono buoni se col gelato so però idem non ci fa impazzire comunque e quindi ho trovato questo dolcetto che ci vuole un altro ingredienti in croce raga pavesini il latte lo yogurt e un grammo di cacao amaro niente di più cioè raga è facilissimo comunque sarebbe questo venite questo ci sta la ricetta la ricetta magari lo prepariamo poi vediamo che cosa vediamo che cosa vado a combinare l'ho vista su tiktok seguitemi è questa è questa ricettina qua vedete è tipo una pizzetta la tipo la chiamo la pizzetta è facilissimo cioè oddio proviamo a farla comunque stra facile nel senso perché sotto è una base di pasta frolla pasta sfoglia e poi è quella rettangolare io ho anche quella rotonda ma quella rotonda la tengo per fare un'altra ricetta quindi oggi ho preso quella rettangolare praticamente stenderla metterci dentro il formaggio io ho preso la menta alla fette perché ci piace un po tutte e due richiuderla metterci altre fettine di formaggio le patate schiacciate e poi sopra il prosciuttino cotto tagliato a fettine un po così molto personalmente bene praticamente andava la base per la pizza pronta io ho preso la pasta sfoglia molto bene ma è uguale chi se ne frega vediamo cosa viene fuori lo stesso non so per quanto il tempo di cottura va bene quindi adesso facciamo queste cosine qua vediamo che cosa andiamo a combinare magari facciamo a giocetto vediamo quanto mi ragge perché un pochettino scarica la videocamera e niente poi vi faccio sapere se ho fatto cosa non ho fatto e tutto quanto allora vediamo che cosa riesco a combinare ho i guanti perché come sapete quando cucino tengo i guanti perché ho le unghie proviamo a vedere che cosa combiniamo soprattutto come questo come lo yogurt comunque in tutto ciò mettiamo i 100 di latte una finanza da solo per inzuppare i i povesini cacao maro che va poi spolverato alla fine i povesini allora ce ne vorrebbero 100 questa qua è una condizione di 100 quindi presumo la latte di no no Grazie a tutti. Allora, è un po' buio. Comunque non vi ho fatto vedere la preparazione di tutto perché c'è la videocamera scarica. Comunque questo è il risultato di quello che ne è venuto fuori. Appunto, essendo pasta sfoglia, però non l'avevo letto bene, diciamo che questo è il risultato. Sembra molto carino e secondo me deve essere buono. Questo qua è un'aggiunta perché appunto le patate erano troppo perché la pasta per la pizza sarebbe stata forse un po' più grande. Quindi ho fatto queste palline, ci ho aggiunto solamente un uovo per fare la pallina. Invece qui non c'è nulla se non un po' di sale, pan grattato in teirale, nel mio caso, e formaggio trattoggiato. Non basta, niente di più, niente di meno, formaggio, prosciutto cotto e dentro c'è anche un altro po' di formaggio. Quindi questo è, sicuramente io ne mangerò tanto così, però almeno così. Mio marito ha una cenettina un po' carina, farò anche magari delle zucchine come contorno. E niente, qui ce ne sono venute altre, questa è un po' più grossa, però vabbè, è uguale. Qui adesso la inforno. Comunque fa freddissimo, infatti mi sono messa la pelpa. Fino a prima stavo anche bene, insomma, era in movimento. Comunque, ho iniziato una serie che si chiama 13, mi ha veramente preso tantissimo. Sono nella terza stagione, la sto tranquillamente divorando, anche se gli episodi sono lunghissimi, perché durano con un minimo un'ora l'uno. Un'ora l'uno, se ho pensato di aver detto un'altra cosa. E quindi sono belli lunghi, poi io comunque faccio delle pause perché mi alzo, vengo a bene, insomma, quindi molto molto lungo, però non è malvado. Diciamo che adesso la storia si è spessata su un altro, è un pochettino, diciamo che è bella, ma ha preso, ma è un po' noiosetta. Cioè, non so se voi l'avete vista. Però sì, sta andando un po' sul noioso. Infatti voglio vedere un po' dove va a parare, perché appunto adesso tratta di un altro argomento. non vi dico nulla, perché magari se ho qualcuno interessa, io lo consiglio come serie, però sappiate che è molto lunga, è molto pesante su certi aspetti. Ecco, la tengono molto lunga e a volte ripetono anche le cose, quindi ciò non finisce quasi mai praticamente. Però me l'ha consigliata una mia amica, ho detto, vabbè, guardiamo tanto perché io non sapevo cosa guardare, ho detto, vabbè, te la consiglio, però sappi che un po' al finale effettivamente c'ha ragione. Voi di che cosa stai mangiando? Spero niente. Niente. Scusate. E boh. Poi aspetto che si fanno le otto, metto su anche le zucchine prima che mi dimentichi e vi farò sapere se sono venute buone oppure ho fatto circa. Vi farò sapere. Allora, è arrivato a casa anche il mio maritino. Salve. E stiamo mangiando questo. Allora. L'abbiamo già assaggiato. L'abbiamo già assaggiato. Non faremo finta di niente. Per me è voto 10. È veramente buonissimo. Oltretutto si sente molto il prosciutto cotto a Ferrari, che è il migliore che ci sia. È venuto proprio bene. Cotta la pasta sfoglia anche sotto. Menomale, di solito a me non mi si cuoce mai praticamente. Formaggio che si scioglie, le patate buonissime, salate il giusto. Non è filante come nel video. Perché quella forse è mozzarella. Provole, infatti. È molto buono. Quindi... 10 per me è 10. Fatelo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.